Sottotitoli e grazie a tutti i miei canali, oggi siamo qua per fare dello Stug 3G da 8 miglia in scala 1.35 ovviamente Quindi prima di ripartire con il fatto che l'ho comprato venerdì e l'ho finito 3 giorni di lavoro Cioè l'ho comprato venerdì, l'ho iniziato venerdì e l'ho finito domenica Questi 3 giorni Poi ho parole oggi partiremo con il coso Allora, questo è uno del fronte orientale, ovvero quelli utilizzati in Russia Praticamente che mi piace tanto, soprattutto per questo fatto che Stavolta ho optato per una bigola al posto della classica tricola tedesca e mi ha usciato i coglioni Stavolta è soltanto marrone e gialla, come potete vedere E soprattutto è un po' copiato anche il design da War Thunder Tipo questo qua, di solito quel di War Thunder Quando è che tipo passa la linea vicino alla botola E tutta la botola colorata con questo quello di Medica Mi piace un sacco Infatti vorrei replicarlo su questo modo Se non mi piaceva probabilmente non sarebbe stato qua Allora in primis mi piace tantissimo il fatto che I dannoni si sono stati fatti con le cose di fango Purtroppo non ho foto da mostrarvi sul fatto Su come ho fatto quello di sotto Perché vabbè l'ho coperto con i cosi Ecco qua E a me piace un sacco perché ci ho buttato tempo anche per fare quello di sotto Quindi in poche parole E qua Tutto questo E in poche parole Anche qua con le splash di fango Le cose, le gocce di fango non le splash Qua abbiamo il cannone Qua è la punta del cannone che è nera Anzi un colore metallizzato molto scuro Che mi piace molto E poi c'è il cannone Per appunto qua il coso Mi piace un sacco la forma che ha È strana e soprattutto molto intimidatoria Poi qua c'è l'altro fango Fondamentalmente fine Questo è il mio sugo di regia da misca Ciao ragazzi